Prendiamo coscienza di essere deboli, vulnerabili e peccatori, solo la potenza di Dio salva e guarisce. Questa è l'esortazione proprio di Papa Francesco di oggi nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta. Siamo creta, deboli e peccatori e senza la potenza di Dio non possiamo andare avanti, perché la potenza di Dio, la forza che salva, guarisce, mette in piedi. Lo ha affermato questa mattina Papa Francesco nell'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta, con una riflessione sulla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Nessuno di noi può salvare se stesso, abbiamo bisogno della potenza di Dio per essere salvati, ha osservato il Papa, sottolineando che tutti noi siamo vulnerabili, fragili, deboli e abbiamo bisogno di essere guariti. Una delle cose più difficili nella vita è riconoscere la propria vulnerabilità, ha proseguito, rilevando che alle volte cerchiamo di coprire la vulnerabilità che non si veda, o truccarla perché non si veda, o dissimulare. Ma le dissimulazioni sono vergognose sempre, sono ipocrite. Oltre all'ipocrisia verso gli altri, ha proseguito il Papa, c'è anche quella del confronto con noi stessi, cioè quando crediamo di essere un'altra cosa, pensando di non aver bisogno di guarigione e sostegno. Quando diciamo non sono fatto di creta, ho un mio tesoro, questo, amo, nito, è il cammino verso la vanità, la superbia e l'autoreferenzialità di quelli che non sentendosi creta cercano la salvezza e la pienezza da se stessi, ma è la potenza di Dio quella che ci salva. L'Apostolo Paolo sottolinea il Papa con questo modo di pensare, ragionare e di predicare la parola di Dio ci porta a un dialogo tra il tesoro e la creta, un dialogo che continuamente dobbiamo fare per essere onesti. Francesco fa l'esempio della confessione, quando diciamo i peccati, racconta il Papa, come se fossero una lista di prezzi al mercato, pensando di imbiancare un po' la creta per essere più forti. E invece dobbiamo accettare debolezza e vulnerabilità, anche se risulta difficile farlo. E' qui che entra in gioco la vergogna. Sta quindi nella generosità il riconoscere di essere vulnerabili, fragili, deboli e peccatori. Soltanto se noi accettiamo di essere creta, conclude il Pontefice, la straordinaria potenza di Dio verrà a noi e ci darà la pienezza, la salvezza, la felicità e la gioia di essere salvati, ricevendo così il tesoro del Signore.